Siamo contenti di essere qua tutti quanti, siamo 4-5 ragazzi della squadra, ci stanno diventando come matti, i ragazzi ci mettono un entusiasmo travolgente, quindi è facile entrare in questo ritmo, in questa giornata con un sorriso. E' bello far parte di questo progetto, è bello condividere queste esperienze con questi ragazzi perché veramente hanno da loro un sorriso contagioso, quindi sono io personalmente molto contento di essere l'ambasciatore One Team e di essere qua oggi. Per me è stato molto interessante tentare di essere un esempio per loro e tentare di insegnare le quali erano le quali erano, per loro, per loro. Mi piace, mi piace, perché ogni volta che ti metti altri ragazzi, più o meno ragazzi, è bello capire cosa hanno fatto passare, cosa hanno fatto, cosa hanno fatto per vivere, e che sono le diverse esperienze che altre persone hanno. E così, mi piace, mi ha dato un po' di nuovo pensiero e ho spero di fare altre meeti come questo. Dopo queste meeti, ho sentito l'opposizione di sensazione. Uno è che sono scusate per questi ragazzi che vivono in diverse comunità che hanno difficolti a vivere, hanno diverse storie, non ogni storia è facile. E l'altra cosa che ho ho, è che ho sentito fortunato con quello che ho, e ho sentito molto fortunato con la possibilità di stare con loro, di cercare, di cercare, di dare loro qualcosa, di migliorare, e di cercare, di cercare, di cercare, di cercare che non siamo un'invinciabile, ma siamo un'unico che tutti possono ottenere. Ho ricevuto molto di questi ragazzi, questi ragazzi, perché credo che il basso abbastanza aiutare un'esperienza, aiutare un'esperienza aiutare i valori. e, come personale, ho ricevuto un'esperienza aiutare per ogni momento della mia vita. Ho sentito di fare molte cose per aiutare altre comunità, per crescere, per migliorare, per essere più positivi per la vita. La prima cosa che posso dire alla nuova abbastanza, è di farlo con passione, con amore, perché è una cosa che non è una cosa semplice che hai fatto durante il tuo tempo gratis, ma è qualcosa che può aiutare a te e le altre persone che ti metti. Quindi, farlo con molta passione, con molta amore, e farlo, 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 farlo. Grazie per la visione!